Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballCersie. Oggi vi presento la maglia da trasferte del Tottenham per la stagione 21-22, nella versione FUN, quella cioè dedicata ai tifosi. Se la prima maglia del Tottenham è stata un po' criticata perché troppo semplice, questa è stata giudicata rivoluzionaria. Con questa fantasia molto strata in colori neri, blu, rossi e con queste definiture in color Venom Green, tra un colore tra il giallo e il verde acido. La maglia secondo me è molto bella, nella mia personale classifica prende 4 stelle, poi mi direte voi cosa ne pensate. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete i dettagli e ci rivediamo alla fine per le misure e la vestibilità. Ciao, a dopo! Una particolarità di questa versione FUN è che a differenza del solito, dove lo stemma e il logo sono ricamati, in questa versione sono termosaldati. Lo sponsor sul petto e quello sulla manica invece sono termosaldati come dal solito. Sul fianco c'è questa fascia nera che ha la particolarità di non essere continua ma crea una sorta di zigzag. La maglia usa la tecnologia Dry Fit, molto bello secondo me il colletto che ha nero sul bordo davanti e viola su quello dietro. Sul retro la maglia ha la stessa fantasia che c'è sul davanti, qui si vede bene il bordino del colletto viola che vi dicevo. Vi è piaciuto il video? Spero di sì! Spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per essere aggiornati ai prossimi appuntamenti. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità e le misure. Ciao alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è la taglia small della versione fan. Io normalmente indosso una taglia media, questa infatti è un po' piccola, però l'ho presa così perché poi desidero regalarla a mio figlio. Grazie!